E per i motociclisti in cerca di una giornata di vacanza, ecco un tragitto davvero panoramico e suggestivo. Lo scopriamo con Simonetta Martellini. Il passo del muraglione io la metterei in alto livello, se potessi dare un voto, un otto. Un tempo mulattiera, la strada del Valico divenne carrozzabile a metà del XIX secolo, quando venne costruito anche il muro di pietre, riparo dal forte vento di Crinale, dove passavano i muli, oggi sostano moto di ogni tipo. Ci si arriva salendo da Forlì e costeggiando le foreste casentinesi, si scende verso la Toscana. Questa strada l'ho fatta più volte, sì, a venire su, passo il muraglione. È abbastanza tranquilla, quindi con curve molto morbide, si viene su, abbastanza tranquillamente, poi molto dolce. È abbastanza gradevole da fare, divertente. Siete partiti da? Alessandria. E questa strada qui l'avevate mai fatta? No, non l'avevo mai fatta, ma è famosissima, nota a tutti i motociclisti, un punto di raduno per tutti e allora chiaramente abbiamo voluto farla anche noi. Impressioni? Bellissima, è stupenda. E ai più non interessa la fama di strada maledetta? Pericoloso, dopo dipende da chi guida, insomma, dal motociclista. Può essere la classica passeggiata, può essere magari una guida un po' più allegra, però sempre basata sulla prudenza, perché noi ci dobbiamo divertire, non dobbiamo rischiare la pelle.